Eh, cara signorina, dovevo vedere come ci libravamo nell'aere. Schiattate, ma non c'avevate paura? Già uo uomo. Paura. Ci chiamano i demonari delle nuove. Eccomi qua, ho appena ritirato le foto. Le foto? Queste. Posso? Ci ha fatto le foto. Eh sì, ci siamo divertiti molto facendo i burloni a cavallo. E qui che ve stavate ammazzate? Le risate? No, lì più che altro ce stavamo ammazzate. Schiattata. Ecco il caffè, ci voleva per rimetterci in forma. Papà, senti com'è buono. E qualità rossa? Più lo mandi giù e più ti dira su. Pronti per un altro giro? Di caffè. Di cavallo. Di cavallo? Sì, vi ho iscritto a una scuola di equitazione per migliorare lo stile. Signor Pegasus, abbia vedato di noi. Ma tu non c'hai paura? Schiattata.